good morning a tutti voi siamo in compagnia di marco al versetto al capitolo ottavo al versetto 27 la cosiddetta svolta di cesarea cioè qui l'angelo a un certo punto prende un'altra direzione fino adesso è andato tutto bene e da adesso in poi inizierà a sentirsi odore di passione ecco gesù partì con i suoi discepoli verso i villaggi intorno a cesarea di filippo e per la strada interrogava i suoi discepoli dicendo la gente chi dice che io sia è interessante questa domanda di gesù no è molto umana noi abbiamo imparato a conoscere gesù e incontrarlo nella narrazione consecutiva nella sua grande umanità e adesso si chiede insomma che cosa dicono di me che cosa pensa veramente la gente di me c'è un aspetto un aspetto intimo di gesù in questa cosa qua e tutti pensano bene perché essi risposero giovanni il battista altri dicono elia altri uno dei profeti quindi una grande considerazione egli domandava loro ma voi chi dite che io sia cioè per voi io chi sono per voi quanto conto per voi il modello ecco di umanità che io ho presentato fino ad adesso quanto conta quanto incide pietro gli rispose nella sua veemenza caratteriale tu sei il cristo punto ordino loro severamente di non parlare di lui ad alcuno e cominciò a insegnare loro che il figlio dell'uomo doveva soffrire molto ed essere voglio vedere solo se questo versetto qui è ancora sì fino al 33 essere rifiutato dagli anziani dai capi dei sacerdoti dagli iscrivi venire ucciso dopo tre giorni risorgere faceva questo discorso apertamente Gesù non ha paura non nasconde questa possibilità infatti pietro lo prese in disparte e si mise a rimproverarlo pietro che rimprovera gesù e gli dice no aspetta noi non vogliamo affatto finire così noi vogliamo finire nella gloria noi non seguiamo un messia che va a morire questa cosa non ci piace non la vogliamo ma egli voltatosi e guardando i suoi discepoli rimproverò pietro e disse va dietro a me satara perché tu non pensi secondo Dio ma secondo gli uomini nonostante tutto quello che abbia fatto detto vissuto Gesù anche i suoi anche quelli che sono vicino a lui stanno ancora pensando in un'ottica trionfaristica ecco che il messia pertanto Dio venga per dominare venga per insomma per far vedere la sua grandezza e invece Dio si si piega Dio scende veramente non per finta Dio si umilia Dio serve Dio ama Dio mette me, te, noi prima di se stesso e questo lo porterà alla croce è un passaggio decisivo questo ecco perché ci metteranno tanto tanto, tantissimo e ci mettiamo tanto anche noi perché perché insomma il giorno dopo la risurrezione e poi la chiesa, il cristianesimo si rimettono nell'ottica del dominio ecco e del pensare un Dio che è sopra e che l'uomo sta sotto ecco questa non è l'ottica del Dio di Gesù perlomeno ecco ma insomma c'è tanto cammino da fare le cose belle della giornata di ieri beh ieri abbiamo fatto il pranzo dei giovani di ieri quindi degli anziani degli anziani anche se oggi questa parola dire anziani dire vecchi sembra quasi di insultare qualcuno e c'era un bel gruppo molto molto piccolo perché 40 persone insomma confronto alla nostra parrocchia che è molto anziana e questo mi fa molto piacere per le persone che c'erano perché è stata veramente una bella giornata e nello stesso tempo mi preoccupa sempre perché siamo veramente ammalati di giovanilismo e quindi quando tu dici che c'è un'iniziativa dei giovani di ieri la maggioranza delle persone anche dagli 80 anni in su pensano che non sia interessante per loro perché loro sono mica vecchi dobbiamo sdoganare questa parola qua ecco essere vecchi è mica un peccato è mica una colpa è una condizione di vita è un discorso complesso questo ma su cui mi sto mi sto un po' interrogando da un po' di tempo ho letto un po' di cose ecco ed è una questione della chiesa è una questione che fa parte di noi della chiesa e della società il mito del giovanilismo è una cosa terribile ecco la bellezza della vita è in ogni età quando mi dicono tu sei giovane no? hai 47 anni io ho 47 anni ecco io non sono giovane giovane chi ha 25 anni io sono un uomo adulto ecco ma insomma adesso non mi addentro in queste cose qua Ale buona giornata a tutti voi e voi chi dite che io sia vi chiede personalmente mi chiede personalmente è un uomo